È una stalla a stabilazione libera su cucette e con la mungitura abbiamo scelto di mettere su come impianto la mungitura robotizzata. La mungitura robotizzata ha come vantaggio che gli animali possono andarsi a fare mungere 24 ore al giorno senza l'intervento dell'uomo quando loro desiderano che sentono le mammelle che sono un po' gonfie di latte, loro autonomamente vanno là, la macchina gli attacca sotto i capezzoli, gli dà un po' di mangime in base, si programma in base alla produzione di latte che fa. Cioè se una vacca fa poco latte lui gli darà poco mangime perché è programmato tot chili di mangime per quantità di latte. Attualmente ce ne sono 57 in mungitura, noi siamo prattiti nel 2018, dobbiamo ancora arrivare ai 65 capi. Queste sono razza frisoni italiana, vacche esclusivamente da latte. È stata la prima azienda agricola di Ferrara a puntare sulla mungitura robotizzata e dopo due anni da quella scelta gli allevatori Dario e Davide Pincelli registrano una media produttiva annua di latte che supera i 100 quintali a vacca. La qualità del latte è garantita, infatti molti dicevano ma con robot perché mungendo troppo spesso il latte non prende tutti i titoli grasso e proteine. Questo è negato perché tutte le volte mi fanno le analisi, una volta aggiustata la razione il grasso e il proteine ci sono come nelle due mungiture tradizionali che si facevano. Si produce un po' più di latte perché quando la mammella gonfia l'animale va come una specie di stand by cioè non produce più di tanto, invece quando la mammella è sempre un po' rilassata quando lei sente che la mammella è tirata lei va a farsi mungere, perciò si produce anche più latte. Lo storico allevamento ferrarese grazie alla robotizzazione riesce così a controllare il benessere animale dei capi in stalla. Quando lui attacca sotto, in maniera autonoma attacca i capezzoli, sente quando nel dato capezzolo non ce ne sono più e lui lo stacca. Può rimanere attaccato anche una tettarella solo e le altre quando ho finito di mungere le stacca, perciò non sia mai il problema della surmuggitura che è dannosissima per la mammella dell'animale.